C'è la mente delle ragazze provvedono alla raccolta di frutti naturali della terra, tipo carciofi, ravanelli, insalata, pizzelli, tutta roba vegetariana, un sacco buona. Noi ragazzi invece provvediamo così alla dimensione artigianale, c'è tutti i lavoretti così in ceramica, in cuoio, così eccetera, per sentirci noi stessi in quanto entità fisico-psichica, a contatto con gli altri. C'è in questo mondo cosmico, pantistico, naturalistico, c'è un mondo in cui è l'amore che vince e il male che perde, c'è un mondo in cui veramente domina la fratellanza. Vada via il culo.